Le imprese padovane sosterranno il calcio padova a un nuovo incontro tra la società e i rappresentanti delle categorie economiche raccolte sotto l'egida della Camera di Commercio che ha cercato di definire quanto iniziato con il tavolo di lavoro presentato lo scorso 3 agosto a Palazzo Moroni. Dare un segnale di sostegno alla società, alla squadra, ai giocatori è un fatto positivo. Questo l'ha fatto come coordinamento della Camera di Commercio e come modello non solo per il calcio padova ma sarà un modello che estenderemo a tutte le società della nostra provincia. 110.000 imprese padovane dunque a servizio dello sport, un modello che potrebbe essere esportato anche ad altre attività sportive oltre al calcio padova. Padova è una città con attività e imprese molto valide per cui il calcio padova se vuol contare deve necessariamente far sistema insieme a tutto il mondo economico e questo è un stato un inizio, stiamo lavorando insieme e vediamo dove ci porterà. I biancoscudati hanno iniziato il campionato di Serie C con i tifosi che dopo la lunga assenza imposta dalla pandemia sono tornati ad occupare parzialmente i posti allo stadio. Per entrare però, ricorda il Presidente, è necessario il Green Pass. Il calcio senza il tifoso non è la stessa cosa. Si riaprono le porte, ci sarà il 50% dei posti disponibili e per accedere ci sarà la necessità di avere il Green Pass. Ci saranno delle verifiche all'entrata ma spero che la passione e il tifo per la nostra squadra tolga tutti i dubbi e faccia venire tutti a tifare per la propria avventura che è la propria squadra.